Salve a tutti, sono Brian Farey ed eccoci in questo nuovo Bitrate. Siamo ritornati alle informazioni che vengono da Oltre Oriente, in questo caso da Famitsu, e alle traduzioni in simil tempo reale per poter portare per l'appunto l'informazione che viene da queste interviste. Ora, non è stata ancora tradotta completamente, ci sono alcuni estratti da Ryotaku, da Gematsu, che traduce da Ryotaku, più altri pezzi sparsi, quindi ancora non abbiamo la piena intervista di 12 pagine, ce l'abbiamo se tutto va bene domani, ma qui abbiamo alcuni estratti molto importanti, divisi in due principali settori, il più importante di questo Final Fantasy VII, ma iniziamo, sto traducendo in tempo reale dall'inglese, perché ho il tempo molto stretto, quindi in alcuni casi mi sentirete dire cose senza senso. Innanzitutto, la nebbia nera, viene chiamata così per quanto riguarda il trailer, ma il nome sembra essere le sentinelle del destino, sono esseri misteriosi che appaiono dove va il party, cioè che lo seguono. Spero che gli eventi, spero che le persone che hanno giocato il gioco originale godano questi nuovi elementi, queste sono un'orecchietase che parlano. Ci sono molte opzioni di dialogo, c'era la gente preoccupata sul fatto, ma non ci sono le scelte, ci sono le opzioni di dialogo, stiamo facendo il fatto che le risposte cambino i dialoghi, in base alle risposte date i dialoghi possono cambiare, infatti per questo il volume, la grandezza di tutti i dialoghi complessivi sono aumentati. Il crossdressing, l'evento all'onebin ci sarà, è ancora lì, lo stiamo modernizzando per renderlo coerente con quello che è la cosa attuale, perché oggi farlo in quel modo non sarebbe semplice, sarebbe strano da vedere, quindi lo stanno modernizzando per renderlo attuale. Ci sono molte aggiunte allo scenario, anche se la storia principale non è cambiata, ci sono un numero infinito di nuovi eventi, altrimenti non sarebbe su due Blu-ray, ride. Eri e Tifa sono entrambe delle eroine, una allo sguardo più occidentale, mentre l'altro allo sguardo più orientale. Volevamo che Tifa avesse gli addominali, quindi ha un corpo atletico. Il dipartimento dell'etnia di Square Enix ci ha detto anche di ridurre, ah no, della etica, scusate, ci ha detto di ridurre il suo seno per non renderlo innaturale durante le azioni intense. Per questo le abbiamo dato l'intimo nero e il top. Con un'enfasi di immersione e di divertimento, si può combattere senza stressarsi usando lo shortcut, le combinazioni rapide che ci sono anche in Kingdom Hearts. Quando si apre il command menu, il tempo rallenta e si può combattere come in una battaglia a comandi. Ogni personaggio giocabile avrà differenti affinità con l'emico, un oggetto, c'è bisogno di un oggetto per recuperare gli MP, vabbè l'etere, e per il bene del level design stiamo preparando nuovi nemici dove è necessario. Aggiungeranno nuovi nemici dove è necessario. Questa è la parte riguardante Final Fantasy VII Remake. Per quanto riguarda la parte riguardante Kingdom Hearts, che ce l'avevo qui, il nuovo scenario è separato dal gioco base. Si potrà giocare dopo aver finito il gioco, quindi è una scelta a quanto pare separata dal menu, per quanto riguarda solo il nuovo scenario. Poi il resto ci saranno aggiunte nel gioco come per l'appunto i personaggi giocabili. Per il numero di boss del Limit Cut saranno simili a quelli del 2 Final Mix, che sono 14. Se includiamo anche il boss non obbligatorio, sono 15. Non si è ancora sicuri di quando verrà rilasciato, ma non vogliono metterlo troppo vicino al 7 Remake, ma che esca un po' prima. Di base le informazioni sono queste. L'unica altra informazione in più è che Nomura e Kayano stanno lavorando a fare una Final Fantasy VIII Remastered, quindi c'è proprio un lavoro anche da parte di Nomura, Nomura non è da nessuna parte ora, sta facendo otto cose contemporaneamente. Come questo è tutto per quanto riguarda questo video informazione, come i bei tempi di quando si parlava di informazione, appena avremo l'intervista completa di Famitsu, ovviamente traduzione scritta nel diary e video apposito. Come al solito, iscrizione, like, condivisione, Spread the Knowledge è sempre la cosa più importante, specialmente per quanto riguarda le interviste che di solito vengono tradotte male, e per quanto l'ho fatto in maniera molto rapida, ho controllato la traduzione su tre siti diversi. Nessuno dei tre italiani, ovviamente. Perché l'intervista è uscita 20 minuti fa. Spread the Knowledge è sempre la cosa più importante e noi ci vediamo al prossimo video.